Musica Beh ragazzi come benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Ci vediamo oggi finalmente nel terzo episodio della bellissima Vintage Craft Ragazzi da subito vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento E iscrivervi al canale se ancora avete fatto E vi ricordo che in descrizione c'è il link per comprare le mie bellissime magliette Ragazzi manca pochino, è mancano 5 giorni alla fine della campagna Quindi mi raccomando passarci Come sempre vi esorto a lasciare un bel like A scrivervi nei commenti con la hashtag Mi racconsiglio cosa fare nel prossimo episodio Ragazzi vi ringrazio davvero di cuore perché mi avete risolto un sacco di dilemmi Per la philosopher stone Perché mi avete scritto che praticamente era normale Che tipo non si fosse buggata Che non era un cheat Ma che si era praticamente lasciata a terra Dopo il crafting della Transmutation Table giusto E anche dalla Transmutation Table ragazzi Oggi è un giorno molto importante perché mi avete scritto un sacco di commenti Spiegazione di come funzionasse praticamente la storia degli MC Ringrazio davvero di cuore tutti quanti Praticamente ha fatto una roba come 250 commenti L'altro giorno il 200 era solo commenti sulla philosopher stone E sulla Transmutation Table Quindi vi ringrazio davvero di cuore Voglio comunque leggere un commento di un ragazzo che ho letto prima Che comunque volevo mettere a video Quindi mi raccomando Se volete comprare il prossimo video continuate a commentare con un sacco di consigli Molto molto importanti Come sempre è crashato Minecraft Allora ragazzi Il bomber Andrea Conti ci scrive Ma il consiglio La philosopher stone te la deve droppare Per la Transmutation Table È divisa tra la matter e il fuel Ogni oggetto ha un numero di MC E ragazzi Fino a qua c'ero ve lo giuro Perché comunque ve l'avevo già detto Un diamante ha 8136 MC E con un diamante puoi prendere 8000 blocchi Però che abbiano un MC Tecnicamente E puoi fare il processo di incontrare Quindi ragazzi Tecnicamente Se io vado qua con la Transmutation Table Vediamo un attimino Questo qua L'oro qua ha 2048 DMC Ciò vuol dire che posso Allora se li faccio imparare però prima il diamante Quindi allora facciamo una roba del genere Tecnicamente io qua un pochino di diamante ce l'ho Io li faccio imparare un diamante alla Transmutation Table Però se io qua metto dell'oro Ok Io l'ho fatto imparare tecnicamente adesso Quindi così Posso prendere un Raga diamante infinito No non è vero Perché adesso non me lo fa più Per esempio Allora ho 2000 DMC adesso Quindi se faccio così E poi così Mi sono preso uno stone a caso E mi rimane fermo a 2048 Ora posso riprendere il diamante Oh mio dio rega Sta cosa qua il diamante è infinito quindi E non è cheat Sto iniziando a volare rega Altro diamante rega che top Sta roba è davvero tanta roba Vediamo se c'ho altre robe qua dentro Nelle chest che valgono tanto 8 128 Gli lapis nulla Questo qua 128 Il rifare d'oro No il rifare d'iron Non c'ha gli MC Va bene Ok la dust vale un po' di più Minchia ho letto 30.216 Pensavo fosse il valore Dell'MC Stavo impazzendo Vabbè comunque Mi sono fatto tre pezzi di diamante Con dell'oro E sta cosa va davvero tanto Ma tanto Ma tanto bene Comunque ragazzi Nell'episodio di oggi Non faremo tanto Più che altro Perché non sta tanto bene Non l'ho detto In nessun social O altro Per non far tipo Preoccupare le persone Ma ieri sera Tipo ho avuto Un incidente in macchina Però comunque sto bene Mi vedete sono vivo Intero Si è distrutta la macchina Praticamente però Fa niente Comunque vi dico tutto quanto Perché tanto sapete Più o meno Quasi tutta la mia vita privata Ve lo dovevo dire In qualche video Perché comunque Era giusto dirvelo Perché se magari vedete Che durante i giorni Ci sarà qualche assenza Perché oltre al problema Al dente C'è stato anche questo problema Qua dell'incidente Quindi tranquilli Sto bene Non preoccupatevi Non ho avvisato su Instagram Seguitemi su Instagram Per non far preoccupare le persone Nell'episodio di oggi Comunque rega Crafteremo Praticamente Un pochino di cose Dopo aver scoperto Come funzionava La Transmutation Table Crafteremo Il maceratore E guarderemo Più o meno Il suo funzionamento Di queste cose E in più ragazzi Crafteremo Anche il Large Backpack Perché è davvero Una cosa molto utile Però tra un pochino E notte Quindi io direi Andiamo a dormire Allora You can only sleep At night A me non me lo dici Un bomber L'altra volta mi ha scritto Che Marco Sono pirla Se avete detto Non è scritto 118 Ma io Non scrivo 118 Quando dormo Poi rega Se vedete anche Che è un episodio Un po' ancora Perché comunque Oggi è il terzo video Comunque Oltre a tutti quanti Casini che ho avuto Ieri sera Volevo portare Il terzo video Di oggi Perché oltre All'UHC Che è uscita Praticamente Oggi Alle due e mezza Alle set No alle sei e mezza È uscita Una bed bellissima E oggi Oh boh Non lo so Comunque oggi Esce anche questa vintage Quindi Non ammazzatemi Perché vi voglio Tanto tanto bene Però allora Facciamo prima una cosa Possiamo dormire ora Oh 118 Facciamo una roba Del genere Ok allora Mi serve la crafting Che è qua Tecnicamente Va messo così Così E devo mettere Delle stringhe Che facciano Praticamente No Non è così Ma è così No Non lo so Allora rega Avevo visto la wiki Sbagliata Perché è davvero Tutto sbagliato Perché non c'entra niente La leather Con le ragnatele Ma devo fare L'alchemy Beg L'alchemy bag Giusto Giustissimo Allora Per fare l'alchemy bag Ragazzi Bisogna fare davvero Un sacco di crafting Che però Io avevo già pronti Perché comunque Per craftarmi La divanero Quanti colori delle dust Quindi mi servono I tre colori principali Delle dust Poi mi serve Un diamante Due pezzettini di stone Che sono questi qua Poi mi serve Anche dell'iron Che non è questo Ma questo qua E in più mi serve Una chest Che però Non so se c'è del legno Quindi mi sa che devo andare A prenderlo Però già che ci siamo Ci facciamo anche Una bellissima ascia Perché siamo senza asce Quindi Tac E ce l'andiamo a craftare Boom 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 Ok Fatta anche l'ascia Andiamo a ci prendere Anche un bel po' di legna Comunque rega Ho letto anche i commenti Di qualcuno Dall'altra volta E mi ha scritto Che comunque si vede Un pelo Peggio Cioè Un pochino male Rispetto ai soliti video A me spiace rega Poi qualcuno mi ha scritto Anche Perché gioco in finestra Perché non registro Praticamente a schermo intero Più che altro rega Non si sa il motivo Ma è proprio Buggato in sé Il pacchetto Che se tu Lo metti In finestra Praticamente intera Crascia tutto quanto Il computer Non so il motivo rega Poi c'è Dite magari c'è un computer Di merda No Comunque c'è un bel computer Che rega praticamente Tutti i conti giochi In ultra Quindi non è tanto Cioè La 1.2 Non mi può far crescere Il computer Cioè Quindi è proprio Il pacchetto in sé Allora Con questo legno qua Lo trasferiamo in assi E ci facciamo subito La chest Poi Allora Tecnicamente Per fare L'alchemic chest Perché prima Bisogna fare la chest Bisogna fare così Mettere un diamante Qua al centro Mettere degli stone qua E mettere le dust In alto No Così E così No Vediamo l'ordine esatto Prima la verde L'azzurra E la blu Oh Fatta l'alchemic chest Che ha Minchia Ha un sacco di MC Però non conviene Rega Metterlo dentro Per prendere il diamante Però tanta roba La storia della Transmutation table Quando lo capisci Davvero ti svolta la vita Secondo me In questa serie Poi per fare L'alchemic bag Perché è la cosa importante In questo momento Ci serve Della wool Che ne abbiamo davvero un sacco Perché ci sono sempre in giro Un sacco di Pecor E nel caso Non ne ho Ah perché ho fatto Il letto Devo andare a uccidere Un pochino di pecore Che sono da questo lato qua Poi l'ho visto Prima e ho detto No non li uccido Tanto non mi servono Infatti qua è davvero Pieno zeppo Rega Però mi sa che mi servono Le pecore tutte Dello stesso colore Sta cosa qua non mi piace Perché non ne trovo Ok là c'è una bianca Là c'è ne sono Tre bianche Qua Eeeh E' pieno zeppo Rega Venite qua Merde Qua rega se c'è qualche Ragazzo grande Praticamente della mia età O qualcuno che ha preso La patente Mi raccomando Fatti i bravi E la guida Perché Non bisogna essere Dei testa di cazzo Perché quello Degli incidenti ieri Praticamente era Tutta quanta colpa Adesso non vi spiego La dinamica Però mi raccomando Usate la testa Se guidate Se avete la patente O il patentino Non lo so Rega Usate la testa Mi raccomando Ok qua Abbiamo sei wool Tecnicamente me ne serve Un 3 a 2 e 5 Quindi credo che vada Più che bene Credo che con la wool bianca Si possa fare Speriamo Perché sto controllando la wiki Si si può fare Si può fare Perfetto Allora mi serve Anche la dust blue Che ce l'ho per forza Quella sicuramente Però tanto Ho anche del diamante Per craftarmela Nel caso Quindi andiamo a vedere Se ce l'abbiamo Ne abbiamo 31 Si che ce la si fa Rega Dov'è? Dov'è? Qua 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 Allora 1 2 3 Poi l'alchemy chest Al centro La wool Qua sotto E bam L'alchemy bag Rega è pronto Vediamo come funziona Ma è gigantormico Rega Cioè io posso mettermi Così Le attrezzi E poi mettere tutto qua dentro Ma va rega Che spettacolo Ma è davvero gigantormico Poi ci mettiamo quel cibo E via Dove è andato? Ma scusatemi un attimo Dove è finito? No rega Mi è sparito tutto No rega Dove cazzo è finito? No rega Sono rimasto malissimo Dove è finito? Che cazzo è successo? Allora Alchemy Allora rega Io lo riprendo un attimo In creativa Per vedere Se qua dentro Ci ho ancora rotto le robe Ma No rega Mi era sparito assolutamente Allora io sapete Che non so come funziona Questo pacchetto Quindi Io ho solamente premuto Il tasto S Per guardare cosa c'è dentro Ho premuto ESC Ed era sparito Testimoni voi rega Io lo prendo un attimo In creativa Scrivetemi nei commenti Magari se qualcuno Sa cosa è successo Nel caso Se mi scrivete Che è una cosa normale Butto L'alchemy bag Esattamente come è successo Con la Filosofere stone Però rega Non so cosa sia successo Ve lo giuro Dopo questo piccolo bug Rega Facciamo così Ci craftiamo anche Il maceratore Perché voglio un attimino Vedere il suo funzionamento Alimentare un attimo Il generatore Con un pochino Di carbone Perché da quanto ho capito Funziona così Che se io metto Qua del carbone Si brucia E qua inizia a creare Dell'energia Devo craftarmi un attimino Un cable Perché Mi ne manca uno Rega Praticamente Quindi ce ne craftiamo Un altro Poi ce ne da sei Per questi grandissimi cazzi Prima di tutto Devo fare L'electronic circuit Quindi lo facciamo Subito al volo Ci serve un refined iron Poi ce ne prendiamo Anche nove Perché devo farmi Un blocco Di machine Poi mi serve anche Due pezzi di redstone Che meno male Che ce l'abbiamo Rega proprio a culo Il nostro bellissimo Electronic circuit Uno Due Bam Poi ci facciamo anche Il nostro machine block Bam Poi ci serve Per fare il maceratore Non sono rinconiuto Guarda tutta l'altra parte Poi ci servono Due pezzi di coble Però è quasi notte Quindi tra un po' Devo tornare a dormire Prendermi due pezzi di coble Sto seriamente così Perché non ne ho Sono un poveraggio Magari ve la taglio La parte in cui vado Direttamente in caverna Vediamo se c'è qualcosa di flint Niente Allora Facciamo così Ci prendiamo Il nostro comunque Pezzettino di flint Dov'è? Dov'è finito? Ah è qua Ok perfetto Ci mettiamo tutte quante le cose Qua per bene E andiamo un attimino In caverna a prenderlo Ho trovato Soprattutto due pezzettini Flint Mi mancavano In più mi sono portato a casa Un pochino di grave Giusto quel tanto che basta Nel caso Me ne servisse più avanti Io comunque avevo solamente Un pezzo Qua dentro Quindi allora Ci craftiamo il nostro bellissimo maceratore Dov'è mettere Electronic circuit sotto Due Un pezzettino di machine block sotto Due pezzi cobblestone E bam 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 Macerator E lo mettiamo Esattamente qua No Qua a fianco Ok Perfetto Perché qua lo sta alimentando Vedete che si sta attivando Raga Perfettissimo Poi Ci prendiamo Una chest Che riusciamo a farcela Con tutto quanto l'inno Che ho messo però dentro L'alchemy bag Quindi non perdiamoci I materiali Ci craftiamo Giusto Una chest Al volo Perché tecnicamente Se mettiamo a fianco Al maceratore Tutti quanti i materiali Che noi maciniamo Tecnicamente vanno messi Cioè si Si portano indietro Dentro la chest Quindi Qua è attivo Il maceratore Qua il generatore Ha un botto di energia Perché comunque c'è anche Del coal dentro Ci prendiamo Tipo per esempio Sti sette pezzi Di copper No Copper ingot Ok E li mettiamo qua A macerare Vediamo se funziona Vediamo Tecnicamente Deve andare Ok funziona Rega vedete Ho fatto Il maceratore Appunto per avere Questa copper dust Rega perché con la copper dust E poi Con la tin dust Posso fare la dust Del bronzo Voglio fare il bronzo Rega prega così Poi quando cuoccio la dust Mi da direttamente L'ingotto del bronzo E posso craftarmi La bench Perché mi crafto la bench Perché comunque Questi tipi Di macchinari Possono essere tolti Solamente Attraverso appunto La bench Perché comunque Da qua rega Noi ci sposteremo Non è che questi macchinari Qua li lascio qua Non è che sono pirla Mi sono messo qua a craftarli Per tre episodi E li abbandono qua Assolutamente no Perché comunque noi Ci sposteremo E andremo Perché la roba Non si è spostata Nella chest Intanto Perché mi sa che mi servono Dei pipe Scrivetelo nei commenti Comunque Comunque Vi dicevo Mi dovrò spostare Comunque andrò a fare una casa Vicino agli altri Qua era solamente Un rifugio momentaneo Ecco Poi mi avete scritto Perché il vetro È così bellotto collegato Ma credo sia Grazie all'Optifine Grazie delle impostazioni Della Optifine Comunque Qua Il copper dust È quasi cotto Allora qua Mettiamo dentro qua E ci fa Mamma mia Ci fa due pezzettini Di bronze dust Che se questo qua Lo mettiamo qua C'è nell'iron furnace Ci da Che bello Il lingotto di bronzo Che top Ok posso craftarmi Un altro pezzettino Di bronzo Questo qua Della dust E finalmente con questo Abbiamo finito Perché se mi metto a cuocere Questi altri due pezzettini Raga Eramo contatissimi Con i materiali Quindi bisogna fare Bisogna tornare in camera Ma lo farò di sicuro Off camera A prendere un po' di materiali Quindi qua sta cuocendo Davvero in frettissima Questa furnace Ah quasi finito Manca solo un pezzettino Ci craftiamo la vrench E poi concludiamo l'episodio Perché davvero Raga basta Non ce la faccio più Quindi Qua ci craftiamo La vrench Quindi tac 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 E tac Bam Vrench Fatta Raga Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Mi spiace davvero molto corto E mi avevo spiegato comunque Il perché Noi ci vediamo in un prossimo video Da Mark e Tutti Mi raccomando lasciate un like In commento Iscriviti al canale C'è il link in descrizione Delle magliette E iscriviti nei commenti Con l'hashtag Mark e Tutti Bella